Se ci sono le principianti, l'esercizio da fare è semplicemente lo squat giù e su, giù e su. Vi ricordo, è molto molto importante quando fate lo squat portare indietro bene i glutei e sentire che si attivano proprio questi muscoletti qua e torno su, tenendo il più possibile allineato ginocchia e caviglia. E salgo, scendo qua e torno su, ok? L'idea è proprio questa, fate attenzione, una cosa che non deve succedere mai quando fate lo squat è andare in avanti con le ginocchia, così, ok? Ok? Caricare il peso del corpo sulle ginocchia, questo non deve mai succedere, devo puntare le chiappe indietro, ok? Quindi se sono principiante, questo è l'unico movimento che io devo fare, andare giù e su così, eh? Se non sono principiante come la Monica, la Floriana, la Donatella, Donatella non mi ricordo che livello sei, ma non credo che tu sia ancora principiante. Poi che altro c'è qua? La Natalia non è più principiante, la Teresa l'ho già vista, Teresa benvenuta, lo so che non sei più principiante. Scrivetemi ragazzi, ditemi se siete principiante o no. Chi non è principiante, primo esercizio numero uno, uno, due, tre, hop, uno, due, tre, hop, ok? Ok? Solo questo qua. Esercizio numero due, vado a terra ovviamente e comincio a fare un plank. Un altro esercizio che le mie allievi si lamentano spesso è il side plank, il plank laterale. Eh lo so, lo so perché esige un sacco di equilibrio e per cui ogni volta sbandiamo un po' quando lo facciamo. Ma va benissimo, va benissimo perdere l'equilibrio e fare fatica, perché è proprio in questo momento che il muscolo si deve attivare tantissimo, che gli addominali devono lavorare, devono essere super attivi in questi esercizi. Quindi anche se vi sentite un po' così affaticate, tenete duro, ok? Parto con i gomiti così a terra. Le principianti devono semplicemente mantenere questa meravigliosa posizione. Quando sono stanche, wow, riposino. Quando ce la faccio, pam pam, vado su. Le altre, la Floriana, la Monica, la Donatella. Mi giro qua, ritorno. Mi giro qua, ritorno. Dai, questo side plank qua è piacevole, beh? Se sono principiante, semplicemente mi metto nella posizione dello squat a gambe unite e rimango qua, così. Lavoro con la muscolatura in izometria. Perché non è principiante, apro e chiudo, apro e chiudo. È importante questo molleggio che andremo a fare con i glutei, eh? Per concludere, ragazzi, ci posizioniamo così e portiamo il ginocchio al gomito. Hop e hop, vai. Hop e hop, vai. Principiante, stanno qui tranquille e quando sono stanche, riposo. E quando riescono, tan tan. E tutte le altre, porto il ginocchio verso il gomito facendo una torsione. Ok? Lavoro bene con questa torsione. Spiro, fuori e su. Spiro, espira, vai. Meraviglia, su, ragazze, allungo, 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 allungo. Complimenti a tutte voi, regine e queen, meravigliose che siete qua con me. Pronte per fare un bello allenamento, che avete preso il tempo per voi. Oh, lo so, a volte sembra impossibile, anche solo mezz'ora, venti minuti, sembra impossibile. Invece, guardate qua, ci siamo un'altra volta insieme. Brave, brave, brave. Con le gambe qua, vai. Uno, due. Uno, due. Brave. Tocco il piede e muovi la spala. Vai, vai, vai. E voglio subito sapere, avete il broncio o avete un sorriso meraviglioso? Vai, io voglio un sorriso ovviamente, perché le vostre vibrazioni arrivano fin qua. Io vi voglio tutte meravigliose, solari e sorridenti. Bravissime. Giro così, giro, 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 vai. Uno, due. Hop, hop. Ancora, gira, gira. Gira bene il braccio, vai. Hop, vai, vai. Chiudiamo i gomiti, ragazzi. Chiudo, chiudo, chiudo. Ehi. Hop, hop, hop. Meraviglia. Chiude, chiude, chiude. Vai, hop. Siete partite? Bravi. Adesso cambio qua. Hop, 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 hop. Vai, vai, vai. Così. Bravissime. Hop, hop. Uno, due. Cambio, braccio avanti così. Avanti. Hop. Vai, vai. Ehi, ehi, ehi. Meraviglia. Uno, due. Uno, due. Riscaldo bene, eh. Cambio. Laterale. Vai, vai, vai. Uno, due. Uno. Ancora. Vai. Col sorriso. Yay. Ah. Quattro. Tre. Due. Braccio in alto. Su, 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 su. Fantastico. Quattro e tre. Vai. Due. Hop. Insieme. Su, 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 su. Ancora. Vai. 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 Hop. Hop. Aggiunge le gambe. Guarda. Piego. 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 Ai mio Dio. Eline. Qui la coordinazione. Braccio e gambe insieme. Aiuto. Vai. 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 Guardate. Tocco qua. Tocco. 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 Vai. Ehi. Tocco l'interno del piede. Vai. Vai. Tocca. Tocca. Vai. 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 Bravi. Hop. Ancora. Quattro. Ehi. Tre. Vai. Due. Stesso movimento ma indietro. Tocco. 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 Vai. Un. Due. Un. Due. Molto bene, girls. Vai. 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 Doppio. Tocco. Tocco. E do. Hop. E hop. Vai. Vai. Uno. Due. Uno. Due. facciamo l'abduzione adesso, vai Flori, su, 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 per te questo Floriana, vai, vai, cattiva io, no, vai, su, sollevo bene, su, ancora, insieme alle braccia, vai, hop, 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 anche le mani vanno su e giù, vai, 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 respira, ok rimani qua, chiudo, apro e facciamo il ginocchio qua laterale, hop, diagonale in realtà, vai, muove le braccia, hop, vai, su, dietro, su, dietro, su, vai, così ragazzi, guardate le braccia in movimento, hop, vai, facciamo piccolino qua, su, 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 un minuto alla partenza, vai, 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 su, su, e qui facciamo la corsa sul posto via, vai, 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 tallone dietro sollevato, in una posizione pronta per scattare, a fare 100 metri, via, 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 respira e vai, 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 tutto il corpo qua deve essere attivo, è gamba, spalle, addominali, vai, 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 così con un sorriso meravigliau vai oh madonna come 3 2 1 già partito ragazzi come un minuto volato non avevo ancora finito aiuto è male che c'è il timer se no io mi pierdo qua vai ok tutto bene tutto bene andiamo giù facciamo subito il secondo esercizio fa niente principiante ferme qua e le altre girano vai entro in un plank laterale e ritorno semplicemente appoggiando i vomiti ok e questo è facile vero? vai 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 respira stop vado su e in piedi faccio farfallina mani a terra respira vado principiante ferme in questa posizione peso sui te e le altre e le altre muovono qua apro e chiedo attenzione a non andare troppo a intingere ginocchia fai questo molleggio eh questo molleggio ci vuole è già il quarto? già l'ultimo io non ci credo qui veramente passa troppo in fretta io non lo so vai porto il gomito il ginocchio al gomito se sono stanca o principiante sto qui eh uuuu il ginocchio è già andato troppo veloce vado uno due tre hop uno tre hop ehi uno 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 cuatro vai wow oh respira respira pronto per il side plank? con i gomiti a terra qua così mi giro da un lato sono meravigliosa una meravigliosa queen vai respira bellissima ogni volta dovete sentirvi stra bella sentiti bella perché sei bella è così fidati vai guarda che coccola questo questo molleggio che ci tengo tantissimo è sempre con il peso del corpo indietro e siamo a un'altra volta all'ultimo esercizio del secondo giro wow ragazzi poi alla fine vi dovete dire bene come è andata eh voglio sapere respira respira porta il ginocchio il domito vai stop wow terzo eh sono stata buona vai guarda che Wow, vai, prepara, gira da un lato, togli, da un lato, vai, entra nella bellissima posizione del side plank, poi gira, vai, stop, così, su e giù, su e giù, vai, mani giù, dai, dimmi la verità, e anche in tempo a stancarti, l'esercizio cambia, vero? E' troppo bello, respira, vai, hop, hop, vai, wow, stiamo andando verso l'ultimo giro, respira, e l'esercizio cambia, vai, vai, Stop, andiamo giù, via, via, plank, gira, vai, Respira, vai, hop, vai, e vai, stop, wow, e che dire, siamo arrivati alla fine, Aspetta, 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 vai, Wow, io sono sudata, Nonostante sia una coccola questo allenamento, io la mia sudata l'ho fatta, vai, respira, forza, porta il gomito, il ginocchio al gomito, Wow, brava, bravissimo, veramente, complimenti, Ah, che brava, allunghiamo, dai, gambe larghe, Thank you, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fuori l'aria, guarda l'ombelico, rotonda, tira su, 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 bene la schiena. Vai, giro la pancia, guarda in alto. Espiro fuori, 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 rotonda, 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 bene, 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 bene la schiena. Vai, ancora una volta e... E spiro, su, 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 bene, 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 così. E da questa posizione entriamo direttamente nel cane a faccia in giù, lasciando il palmo delle mani a terra. Se riesci anche i talloni, se non riesci i piedi e i ginocchia. E con il tempo cerca di allungare, allungare, lavorare, lavorare, fino ad andare anche con i talloni a terra. Ci vuole un tempo, esercizio. Non puoi? Non soviva. Respira. Butta bene fuori l'aria. Spingendo il petto verso il pavimento, eh. Piega adesso le ginocchia, se già non è piegata. Piedi. Lascia giù le mani, allunga bene le gambe. Piedi. Mani a terra. Piedi. 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 E vertebra per vertebra torna su piano. Piano. E piano. Ragazzi, che magia, vero? Adesso sai cosa facciamo? La foto dello screenshot. La foto per la storia. Io mi faccio la posa. Faccio una posizione. Voi fate una foto. Una salva schermo, un screenshot. E poi andate a su Instagram. Fate una bella storia. Scritto allenamento e la workout. Taggatemi. E io poi condivido la vostra storia nella mia storia di ELA workout. E così siamo collegati anche dopo l'allenamento. Ok? Quindi adesso faccio una bella posa. Vediamo come vieni. Foto per lo screenshot. Foto per la storia. Abbasso le mani. Vediamo se viene bene. No, no? Troppo giù. In mezzo alle scritte. Così. Squat. Siete pronte? Vai! 3, 2, 1, via! Fatto! Yes! Non abbiamo finito. Allunghiamo qua. Ma dopo voglio anche sapere, ragazza, tira giù bene la spalla. Allungo. E lascio cadere così la testa. Guarda. Respirando. Bravissime. E poi voglio sapere com'è andata. Ovvio. E voglio salutarvi per bene. E voglio che mi scrivete, sono rimasta fino alla fine. Eh? Perché bisogna essere tosta poi per fare lo stretching, per fare tutto quello che c'è da fare. Allungo, 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 allungo. Oh! Rilassa la spalla. Così la testa adesso. Da un lato. Ispira. E vai dall'altro. Ancora una volta. Ispira. Lascia cadere la testa, le spalle, le braccia. Oh! E vai dall'altra parte. Ah! E lascio cadere. Bravissime. Sulle mani. Ispira. Espira. E su. Espira. Ultima, ragazza. E su. Avvicina le mani. Fai un bel inchino in avanti. E grazie mille! Siete pazzesche!